Filco presenta L'audace colpo del solito ignoto con Nino Manfredi e Franca Tamantini Marinalto, la borsa o la pipa? Chi è papà? Ma non mi impipa la serve Papà pensa di incontrare un cinese A me me pare che pia le pate Ragazzi, l'importante è che non si impavere a questa Agli ordito! Marinalto, la borsa o la viva? Mamma mia, ci ha fatto la borsa? No, no, chieda niente Au, e il signor o stava spettando io, sa? Ma sto rapinatore pure io Vabbè, ma tu sei un abusivo, questa è zona mia Vabbè, allora fanno vedare per uno Non vi bisticciate, Benedetti? A chi devo dargli una borsa? Facciamo scegliere lui E fanno scegliere lui Lei chi preferisce? E non saprei Oh Guardami Veramente siete carucci tutti e due? Te faccio una proposta? Sì, dammi diecimila lire e tu veni E no, per ventimila poi compro io Trenta Quaranta Venduto Quanto c'hai là dentro? Più di un milion, Benedetto Buono, non te muovi Ammazza che affare che ha fatto No, quello che ha detto è detto Dieci, venti, trenta e quaranta Dammi la borsa Dai la borsa C'hai davvero a secchietti, eh? Venti a te e venti a me Ma che stavate d'accordo? A farlocco Grazie E con milioni di auguri Lava a secchietti Ma vedi, ma hanno fatto il bidone A ladro Sì, chiama le guardie Così te arrestano pure Ma che arrestano? Puro i peragottari Ragazzi Sì, e che ne so che gira un sacco di gentaccia Mannaggia Mi conviene venire a casa, Ninè Ma che casa è casa? Fino a che non mi riesce a fare un bel colpo e a comprare quello E a casa non ci torno Perché senza un televisore filco Una casa non è una casa completa Sai che ti dico? Io torno da mia madre E no, allora vengo pure io Capirai? C'è un filco? Se dentro la vostra casa c'è un filco Dentro il vostro televisore c'è la qualità filco Dimostrate il vostro stile Scegliendo una linea raffinata Che racchiude l'esperienza di una grande industria Tutto sommato mi conviene comprarlo Tiè, non costano mica molto I migliori rivenditori ve lo confermeranno E per la gioia di una buona musica Radiogrammofoni Filco